Adesso voglio parlare brevemente di un'altra cosa. Non voglio parlare solo di fotografie dei volti, ma voglio parlare dei volti, come vengono percepiti nel mondo reale. Il problema per i nostri figli è che devono cercare di capire come funziona il mondo quando entrano in una palestra, quando vanno a ricreazione e sono contornati da centinaia di altri bambini. Come fanno a capire come comportarsi? Dovremmo essere dietro l'occhio della persona per capire che cosa vedono. Quindi con alcuni colleghi nel mio laboratorio abbiamo messo a punto dei processi. Utilizziamo un sistema per eye tracking ad infrarossi, invisibile al bambino. Mostriamo ai bambini piccoli clip di film e possiamo seguire che cosa guarda il bambino per capire come il bambino interpreta il mondo circostante. Abbiamo utilizzato prima alcuni clip di un meraviglioso film americano che si svolge in un college americano. Ci sono due professori. Ecco, il nome del film è Chi ha paura di Virginia Woolf. Mostriamo piccoli spezzoni di questo film a soggetti con autismo e quelli senza autismo per capire che cosa seguono, cosa stanno guardando nel film. Questo è il primo studio che mostra un uomo con autismo in verde e invece uno spettatore normale. L'uomo con autismo mangia solo sardine, non cambia mai, mangia sardine a tutti i pasti del giorno. È molto rigoroso, è una persona molto carina che ha collaborato con noi e vediamo quello che accade. Questi sono cinque secondi del film condensati in un frame, in un quadro. Vedete che lo spettatore con lo sviluppo normale va avanti e indietro tra gli occhi dei due protagonisti e invece il soggetto con autismo guarda la bocca. Questa è una scena dove si è verificato qualcosa di pauroso, qualcuno, non lo so, ha fatto qualcosa di scioccante. Quindi lo spettatore tipico, normale, guarda gli occhi mentre quello con autismo guarda la bocca. Il problema è che il 90% delle informazioni sociali si verificano nella parte superiore del volto. Se si guarda la bocca sempre, questo vuol dire che vi perterete un sacco di cose, come avere un filtro che blocca il 90% dell'interazione. Poi succedono anche altre cose. Questa è una scena del film in cui la giovane ragazza sta imbarazzando il marito, ha bevuto troppo e comincia a parlare con una patata in bocca. La patata in bocca vuol dire che è un po' ubriaca, il marito è molto imbarazzato. E quello che vediamo nella clip, vedrete se guardate il film, cosa succede? Il giovane parla, entrambi gli spettatori lo guardano, uno guarda la bocca, l'altro guarda gli occhi e poi lei comincia a parlare, la moglie. Lo spettatore tipico guarda gli occhi e poi però guarda anche il marito che non sta parlando per niente e si rende conto che il marito è preoccupato. Torna poi a lei e poi torna al marito per capire l'interazione tra i due. Invece il soggetto con autismo comincia dalla bocca. Quando lei comincia a parlare, guarda sempre la bocca della donna, non guarda mai il marito come se non sapesse che il marito è imbarazzato. Anche in una scena tipo questa dove c'è Liz Taylor che sta pensando a come reagire nei confronti del marito. Il soggetto con autismo guarda solo la bocca di Liz Taylor e l'altro gli occhi e questa è la mia preferita. Non so se avete studiato Freud in psicologia. Ecco, il triangolo edipico, scusate. Liz Taylor sta cercando di sedurre il giovane e gli parla di quello che possono fare insieme ed è molto seducente. Il soggetto autistico va avanti e indietro, pensa che sia il seno della donna invece la bocca e lo spettatore fa la stessa cosa però si accorge che il marito non dice niente ma che la persona centrale della scena a Liz Taylor non gliene importa nulla di questo giovane, vuole solo umiliare il marito. Ma il soggetto autistico questo non lo saprà mai perché non ha manco prestato attenzione al marito. Ora, la cosa interessante è che questi sono dei gruppi di persone, non un soggetto. Guardiamo la distribuzione, la bocca, il corpo, gli occhi e l'oggetto. Abbiamo scelto un film con pochissimi oggetti. Le persone con autismo trovano gli oggetti molto di più rispetto agli altri ma non c'è sovrapposizione per quanto riguarda gli occhi e questo è un effetto molto marcato. C'è una statistica che può essere utilizzata per quantificare questo. È una statistica che quantifica questo effetto ed è 3,6 come valore. Stamattina si parlava dell'effetto a livello delle capacità sociali nell'autismo e il deficit è 3,6 per quanto riguarda la curva campana ma quello che possiamo fare a livello di intervento è 0,4 come valore. Questo ha delle implicazioni anche nel lavoro di eye tracking con i neonati. Ci interessa vedere l'autismo come si sviluppa nelle prime fasi della vita e abbiamo rilevato delle prime differenze precocemente. Speriamo di poter allargare l'utilizzo di questo test come screener. Questi sono bambini che hanno 12 mesi. Secondo voi qual è il bambino che forse ha l'autismo? Quello in verde o in giallo? Altre impostazioni, altri approcci. Alcuni dei poster hanno parlato proprio di questi altri approcci. Io non ne voglio parlare molto però l'importante cosa da dire è che possiamo anche ascoltare e non parlare solamente per cercare di capire quali sono i suoni che producono i bebè, i neonati. C'è tutta una progressione nello sviluppo normale e i bambini cominciano a cercare di imitare tutti i suoni della vocalizzazione umana però poi quando hanno un'età maggiore le parole che loro utilizzano cercano di riprodurre le parole che sentono. E poi è importante dire che se si hanno dei contatti con i soggetti autistici ci sono delle difficoltà a livello musicale e quindi magari se qualcuno mi telefona e io rispondo al telefono so esattamente se la persona dall'altro capo è affetta da autismo o no perché parla forte, ha un volume forte e ha una specie di... è monotono il suo modo di parlare e questo è qualcosa che vediamo già nei bambini a livello molto precoce c'è una difficoltà proprio a livello di emissione dei suoni la percezione appunto come suono vocale e poi anche altri approcci che hanno studiato la risposta ai volte per esempio tramite l'elettroencefalogramma è interessante vedere come funzionano le onde cerebrali la configurazione e c'è possibilità di abbinare le EG con il neuroimaging e nei prossimi anni credo che questi approcci diversi verranno fusi e sarà una bella cosa perché tutti questi approcci hanno dei pro e dei contro e hanno la loro tempistica nel capire quali sono le differenze quindi tutto questo ci potrà aiutare moltissimo e ci potrà forse aiutare non solo a parlare e a vedere la situazione nei bambini ma anche gli adulti che purtroppo non sono molto studiati dalla ricerca quindi in totto spero di avervi mostrato alcuni dei metodi che vengono utilizzati per studiare l'elaborazione cerebrale sono stati fatti sui neonati e i bambini ma speriamo di poter allargare i soggetti le differenze riguardano per esempio l'importanza e l'elaborazione dei volte sappiamo che c'è un coinvolgimento potenziale anche dei fattori genetici sarà molto interessante studiare questo argomento e poi vogliamo capire quali sono le differenze a livello dell'elaborazione delle informazioni sociali questo ci potrà aiutare a capire altre sfide altri aspetti delle disabilità per esempio Nancy ed io pensiamo che queste difficoltà precoci potranno poi rivelarsi problemi più importanti quando i bambini vanno a scuola quindi magari i bambini a scuola non si concentrano su cose importanti e invece prestano attenzione alle cose sbagliate e vorremmo poter intervenire in questi processi sbrogliarli per così dire in modo tale da poter intervenire più precocemente e in modo più efficace sono contento di aver finito in tempo record e vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti